Ciao a tutti, perché ti innamori sempre della persona sbagliata? Questa è la fatidica domanda che mi fanno costantemente molte persone. Allora, ci si innamora della persona sbagliata perché non è la persona sbagliata, o perlomeno non è la persona sbagliata da un punto di vista della nostra sfera ombra, della nostra sfera emotiva, è sbagliata dal punto di vista della nostra parte logico-razionale con la quale ci identifichiamo, la parte logica che, diciamo, soffre quando le cose vanno male, che soffre quando appunto incontra una persona sbagliata nel senso che non soddisfa le tue aspettative, ma addirittura fa il contrario, ti penalizza fortemente, ti genera delle forti tensioni, ti lascia prostrato la sera nel letto a pensare dove sarà, cosa starà facendo, con chi sarà in questo momento, oppure, non lo so, perché non mi vuole, perché non mi cerca, perché non mi ama, perché non mi desidera, e allora soffri, ma questa sofferenza in realtà è un appagamento per la tua parte ombra, per la tua parte emotiva, e così la persona sbagliata diventa una persona giusta fondamentalmente, diventa una persona giusta per la sfera emotiva, quindi, però c'è una parte che soffre, e quindi perché ti innamori sempre della persona sbagliata? Qual è la risposta? La risposta è perché è una parte logica e una parte emotiva disalineate, una vuole andare a ovest, l'altra vuole andare a est, se una vuole andare a nord, l'altra vuole andare a sud, e quindi sono esattamente l'inverso, e quindi cosa succede? Siccome la parte emotiva è quella più forte, è quella prevalente, se ne fotte, diciamo così, della tua parte logica, cioè in alcuni casi la parte logica rompe le palle, per cui magari va a dirottare ancora su qualcos'altro, magari su un sintomo, su qualcos'altro, ma normalmente, diciamo, riesce a procurarsi le emozioni che la tua parte logica non gli sta dando, cioè che tu non stai dando alla tua parte emotiva, quindi assumiti di questa la responsabilità, per cui la tua povera parte emotiva per sopravvivere, perché lei si nutre di tensioni, si nutre di emozioni, ti fa innamorare della persona sbagliata, e lì le emozioni non si contano, sono a bizzeffe, però la responsabilità è tua, cioè tua, nel senso del parte con cui ti identifichi, perché ti sei creato un nemico in casa, e allora se vuoi smettere di innamorarti della persona sbagliata, devi prendere mano alla situazione emozioni, devi somministrarti emozioni, perché se non ti somministri emozioni, non c'è un cazzo da fare, continuerai sempre a innamorarti della persona sbagliata, perché la tua parte emotiva di fame non muore, piuttosto muore, diciamo, di qualcos'altro, come dire, un cane che non gli dà la polpetta buona, si mangia la polpetta avvelenata del primo lato che passa, se ne sbatte i coglioni, in sé morirà avvelenato, ma preferisce morire avvelenato che morire affamato, e questo è uguale, quindi trai la considerazione del fatto che ti innamori della persona sbagliata con il fatto che non stai comunicando bene con la tua sfera emotiva, e se vuoi comunicare bene con la tua sfera emotiva, devi imparare a dare emozioni alla tua parte emotiva, devi imparare a farlo, e per dare emozioni alla tua parte emotiva, devi fare ciò che ti imbarazza, e queste emozioni possono essere di qualunque natura, certo è che puoi dartele anche sentimentalmente, ma una cosa utile, ma trovati una o uno apposta per duntrirti emozioni, è come quello che usa la camera della cantina, dove ci mettono le schifezze, e tu fai uguale, tutte le porcherie emotive le deleghi a una persona che ti innamori di uno o di una per goderti il pathos, ma non è quello il tuo obiettivo fondamentale, il tuo obiettivo deve essere nato, questo è uno strumento, quindi il coinvolgimento emotivo, va bene tutto, va bene, va bene magari lavorativamente, insomma comunque devi fare una vita che dia emozioni, una volta che tu farei questo vedrai che non ti innamorerai più della persona sbagliata, ma magicamente troverai la persona giusta, poi anche con la persona giusta può finire, ma un conto è se finisce, se muore di morte naturale, diciamo, un conto è perché poi ovviamente anche noi esseri umani moriamo, moriamo in qualche modo, possiamo morire o di morte naturale o di incidente o di malattia, poi la morte naturale vuol dire morire per vecchiaia, perché biologicamente diciamo, dicono che siamo progettati intorno ai 120 anni, quindi teoricamente potremmo diciamo morire di morte naturale a 120 anni, poi diciamo così, se non sono 120, saranno 100, 90, quello che è, però almeno vivere bene gli anni in cui viviamo, e lo stesso discorso vale nelle relazioni sentimentali, non è importante che duri 30 anni, 40 anni e 50 anni una relazione, può durare anche 1, 2, 3, 10, l'importante è che quegli anni lì siano vissuti positivamente per quello che ti dà. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, in più se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!